ma il cavallo invece, il cavallo il cavallo è il mio sport preferito è il mio gioco preferito l'altro giorno ho giocato un cavallo quasi 800 vincente alla pari alla pari vuol dire a 2 ho vinto il doppio ho vinto 1.600 anzi pagava 2.10 e sono andato alla cassa e hanno pagato, ha messo la fresca quando hai visto quel cavallo la comunità di Sant'Egidio ha detto che dovresti dare la comunità di Sant'Egidio ma chi ha cosa i soldi di quelli che vinco li rimetto, me li ballo ancora o me li ballo a bere la sera stessa o me li ballo ancora poi l'altro giorno il cavallo ha vinto facile non è anche sofferto come rubare in chiesa una passeggiata di salute